Ciao a tutti, sono Antonella Laricchia, la candidata presidente del Movimento 5 Stelle per la Regione Puglia alle Regionali 2015. In questi mesi, noi attivisti del Movimento 5 Stelle abbiamo incontrato tanti cittadini pugliesi per elaborare un programma. Un programma che preveda la tutela e la valorizzazione di quelle risorse naturalistiche, architettoniche, ambientali, culturali, storiche, che in Puglia già esistono e che permetterebbero il rilancio della nostra economia e la creazione di quei posti di lavoro che potenzialmente già ci sono, ma che vanno correttamente attivati. A tutto questo abbiamo aggiunto anche un lavoro sui diritti fondamentali della persona e quindi un reddito minimo garantito e una sanità pubblica d'eccellenza, l'istruzione pubblica d'eccellenza che nella nostra regione vogliamo assolutamente che ci sia. Immaginate che per ben tre riviste internazionali la Regione Puglia è stata definita nel 2014 la Regione più bella del mondo. È inimmaginabile che dalla Regione più bella del mondo stiano emigrando tutti, i giovani, i meno giovani per cercare lavoro, perfino gli anziani per curarsi. Noi non abbiamo responsabilità sul passato, non abbiamo mai avuto l'opportunità di governare, per questo tutto ciò che vi chiediamo è metteteci alla prova. Noi siamo quelli che dicono io resto, non vogliamo cambiare paese, ma vogliamo restare per cambiare questo paese.